Non solo un'occasione per ricordare il passato, ma anche un'opportunità per lasciare un segno sul presente, sulle coscienze e sulle azioni degli adulti e dei giovani. Così il giorno della memoria è stato rivissuto attraverso lo spettacolo Fustella di Matteo Corradini e Alice Carrino, in scena oggi al Teatro dei Filodramatici di Piacenza, nell'ambito della rassegna per le famiglie Saltimbanco. Questo spettacolo Fustella è ispirato a un mio libro, io in scena leggo alcune parti di questo libro e racconto il senso delle stelline, delle stelle gialle nella Shoah, racconto di discriminazione, di odio verso l'identità diversa e di quello che è accaduto per colpa dei nazisti. Raccontiamo il bene, raccontiamo il male della storia e in questo male naturalmente proviamo a specchiarci, proviamo a vederci e lo spettacolo è per i ragazzi, per le famiglie e anche per gli adulti, volendo.